Cambia il look di uno dei mercati storici della città di Palermo. Siamo a Piazza Carmine, nel cuore di Ballarò, che cambia volto per rendersi più moderna le esigenze di un mercato sempre aperto. Ieri è stata posta la nuova cabina elettrica, una struttura al coperto al cui interno ci saranno 40 stand che settimana dopo settimana prenderà forma. Un progetto che vede coinvolti lo IACP, la prima circoscrizione dell'Associazione Mercato Storico Ballarò, l'Università con il DARK e il Dipartimento di Ingegneria e l'Associazione SOS Ballarò. È un primo passo, è un'operazione che rientra all'interno del mercato coperto di Piazza del Carmine, di tutta l'operazione che vedrà coinvolti circa 40 attività del mercato stesso, tra pesce, frutta, ortofrutta e varie cibarie. La cosa che ci piace ricordare è che questo è un processo che arriva dal basso, che arriva dal dialogo con i venditori del mercato, dal come rilanciare il ruolo dei mercati storici in questa città e a partire dalla Piazza del Carmine questa di oggi è un piccolo grande segnale. Un mercato coperto che, se stiamo nei tempi, in primavera dovrebbe vedere la sua completa realizzazione. Nel frattempo si sta per definire un altro pezzo del mercato coperto, che è quello più piccolo, che a breve verrà tolta la recinzione, perché verrà coperto. Siamo a un passo dall'arrivare. Tutta questa è un'operazione che arriva dalla grandissima collaborazione con l'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo.